onestamente a me non interessa perché siete qui quello che mi interessa è la vostra anima quindi comincia con un racconto doloroso traumatico ma senza provare emozioni mio padre era uscito con la macchina e sulla strada c'era qualcuno per evitarlo ha sbandato non ero sicuro che saresti tornata sai non sono fatta per restare sola anche se ne ho avuto bisogno lei è giulia ha seguito le elezioni in questi giorni ma da oggi entrerà nel vivo del nostro lavoro non è carino spiare le persone non la stavo spiando si direbbe il contrario la paura dell'abbandono la paura di persi non sono paure che superiamo dicendo io non ho paura colpito esiste una felicità di riflesso possiamo essere felici se stiamo vicino a chi è felice io non so niente di te sai più di quanto potrei raccontarti giulia ma che cosa ora deve solo riposare un po io sto male senza di te per questo che devi andare per quanto tempo devo ancora difendermi fino a quando non avrei imparato a non avere paura di quello che senti la paura l'attesa è stata la tua vita devi uscire martha